Si apre oggi a Graz, in Austria, il processo a carico del 26enne accusato dell'uccisione di tre persone del ferimento di altre 108 nel giugno dell'anno scorso. L'uomo si era lanciato contro la folla alla guida del suo fuoristrada nel centro della città. La perizia psichiatrica ha valutato che l'imputato possa affrontare il processo, ma la difesa chiede la reclusione in un istituto di cura.